Ok, il Far East non finisce qui, perché questa notte ci saranno le Feff Nights al Minnamoro con il DJ Seiji da Londra e la punk rock band da Tokyo, le Tazio, che sono in sala. Thank you for coming. Ok, un saluto a tutti gli ospiti presenti in sala che domani partiranno per le capitali asiatiche da Manila, Hong Kong, torneranno a Manila, Hong Kong, Kuala Lumpur, Hong Kong di nuovo, l'ho ripetuto, ok. Beijing e Bangkok sono seduti qui tra noi, facciamo un applauso, loro hanno reso magica questa edizione. Please stand up, all the guests. Ok, thank you very much for coming, we love you, you made this festival magic, thank you for that. Ok, I'm going to announce now the winners of the 14th edition of Far East Film Festival. I'm going to announce first the My Movies Website Award. Quindi andiamo ad annunciare quello che è l'Internet Award di questa edizione, My Movies Internet Award, c'è uno speciale premio per questa votazione che i nostri spettatori fanno su internet attraverso il sito My Movies, che è uno dei partner del festival. Dunque il vincitore che avrà questa bellissima bicicletta... Ok, il My Movies Website Award goes to Terme Rome di Takuchi Hideki. Ok, the next one is the Black Dragon Award and the Black Dragon Award goes to... Questa volta va alla Corea del Sud, con il film Silence, di Wang Dong-yuk. Ok, and now the three audience awards in the third position, nella terza posizione, abbiamo il film coreano The Front Line, The Front Line di Jang Hoon, che conosciamo molto bene, con una media di average points for the front line is 4.1. Ok, ok, in the second position, we have a very special movie, actually, from China. The movie is One Mile Above, 4.2. And for this movie, we have the producer Nina Han, that is coming here to get the prize. Wow, very, very good. Can you speak? Yeah, of course, I can. Yes, please. Thank you so much for coming today, and thank you for the organizer of Far East Film Festival. Thank you, Sabrina. Also, I want to share this honor with my crew members in China. The director, the director, also the actor in Taiwan, the young boy. I love this city. It's the first time I've been to Italy, and I had a very, very great memory. I hope I can come later, or come again. For sure. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Nina. Okay, thank you, Nina Han. She's going back to Beijing tomorrow, and the movie was a co-production between China and Taiwan. Okay, and now, the first prize of the 14th edition of Udine Far East Film Festival goes to silence. Silence. Okay, the average points are 4.4, so very, very high. So, this is the winner of this edition from South Korea, and this is the prize, our prize, from our territory, our region. Okay, thank you very much for that. Ragazzi, questa è la fine dell'edizione quattordicesima. L'edizione è un po' faticosa, ma siamo sicuri che con il vostro aiuto noi saremo in grado anche di organizzare la prossima, quella del quindicesimo anniversario del Far East. Abbiamo un pubblico fantastico, quindi grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato quest'anno. Ok, so, see you next year, for sure. And God save the panda, and God save Udine Far East Film. Thank you. Ciao. Ciao.